Non voglio stare a dieta, non voglio fare estenuanti esercizi per dimagrire, non voglio saltare i pasti, ma voglio dimagrire. Ah, mi stai leggendo nel pensiero? Sì, ho comprato la sfera di cristallo su Amazon. Scherzavo! Sono le richieste sul dimagrimento che le persone mi fanno più spesso. E oggi vi svelo tre trucchi bruciagrassi per dimagrire, mangiando senza rinunce. Più un segreto bonus che trovate alla fine del video. Ecco cosa mangiare. 1. Legumi. I legumi sono un'ottima fonte di proteine, ma non solo. Contengono anche fibre e minerali che sono sazianti e nutrono la massa magra. I migliori sono lenticchie e ceci. Per non gonfiare la pancia, basta cuocerli con un pezzetto di alga kombu o un cucchiaino di bicarbonato nell'acqua di cottura. 2. Verdure a foglia verde. Insalata, cavoli, broccoli, spinaci, coste. La lista è lunga e anche la lista dei benefici e dei nutrienti. Vitamine, minerali come il ferro, antiossidanti, clorofilla. Queste verdure sono un vero concentrato di benessere. Aiutano anche la salute intestinale, fondamentale per dimagrire. Il contenuto di fibre aiuta a ridurre l'assorbimento degli zuccheri e aumenta il senso di sazietà. 3. Frutta secca. Altro che bruciagrassi, tu mi vai come una botte. Che la frutta secca faccia ingrassare è un falso mito. C'è uno studio scientifico americano che lo dimostra. La frutta secca fa proprio dimagrire. Io mangio sempre la frutta secca, la adoro e questo è il mio segreto salvalinea. La frutta secca va mangiata come spuntino spezza fame tra i pasti oppure in piccole quantità a fine pasto al posto del dolce. Fa ingrassare quando la mangiamo a Natale dopo un pasto di 5 portate, il dolce, il caffè, la mazza caffè, il liquore, tutto. Contiene acidi grassi che servono al corpo a bruciare i grassi e poi vitamine, minerali e anche proteine. Con questi tre segreti bruciagrassi dimagrire mangiando sarà più facile e durerà anche di più. E ora il mio segreto bonus. Per dimagrire quei chiletti ostinati che non vanno via e avere risultati che durano nel tempo, non perderti neanche il mio nuovo video training che sarà pieno di contenuti rivoluzionari per aprire la tua mente alle nuove frontiere del dimagrimento naturale. Segnati subito il giorno in agenda e blocca il tuo posto per non restare fuori dalla mia aula virtuale. Ti aspetto, vi lascio il link per contattarmi in descrizione. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao! Attivate la campanella delle bonifiche, attivate la campanella delle tonifiche!